Musica Finisce molto triste sapere di non poter vedere altri film, non l'ho frequentato moltissimo, però ho voluto dargli addio a questo cinema vedendo qua stasera. Musica Tristissimo. Che film hai visto? The Founder. The Founder come Steve Jobs che sostituisce. Perché poi si mangia il cinema. Bruttissimo, è tristissimo. Ho visto l'ultimo biglietto, Founder, l'ultimo spettacolo, è questo che è un piccolo souvenir. Musica Ho visto The Founder e quindi una stella di capitalismo e di mercato. Forse era il film che meglio rappresentava la chiusura, direi, drammatica di un ciclo. Musica Musica Musica